Seconda parte, sempre sul tema banche e banchiere, abbiamo sentito il Presidente Alberto Domenicali, la parte istituzionale, abbiamo parlato anche di altre cose, abbiamo oggi il Direttore Generale che è Sergio Zavatti, che viene fra l'altro da Sant'Arcangelo e ci ha fatto questo piacere di venire qui da noi. Io, Direttore, intanto buonasera e grazie di essere venuto, perché so che lei è molto impegnato, lei e il Presidente si sono stati ultra gentili, io questo lo devo dire, mi sento di doverlo dire. Passo a Pietro Caruso, la palla perché è da un po' che mi dice che ha una piccola introduzione da fare, poi cominciamo con le domande con il Direttore. Vai Pietro. Ma affermo restando che la tipologia di questa banca è diversa dai grandi gruppi, però è chiaro che i problemi, il confronto con l'economia reale ce l'ha tutti i giorni. Allora, vorrei prima fare una premessa di carattere metodologico, che è quella che riguarda lo stato di salute della vostra banca nel rapporto fra la raccolta e gli impieghi. Perché stiamo notando una cosa, vogliamo verificare se anche la vostra banca è in questo contesto. Si segnalano con molta enfasi tutte le forme di raccolta da parte degli istituti di credito, a vario titolo. Poi però, quando si entra tecnicamente nel settore degli impieghi, ci si accorge che in realtà, almeno per i grandi istituti nel territorio romagnolo e anche in parte in quello emiliano, il risultato a favore di famiglie, imprese e operazioni bancarie di un certo rilievo di finanziamento sono molto più ridotte. Si sono ridotte. Questa è una condizione che riguarda anche voi, o voi potete dimostrare con i numeri che non è così. Io la ringrazio della splendida domanda, devo però prima fare una premessa, oltre che dare la buonasera a tutti voi, e ringraziare per questo graditissimo invito. Ma in verità esiste un regolamento interno di servizio della banca di Imola, peraltro del gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, dove interviste e relazioni con la stampa lì intrattiene soltanto il mio Presidente. Io sono qui perché lui invia del tutto esclusiva e escezionale. Ha avuto una liberatoria. Questa è molto interessante. No, no, scherzo. Non è stato ancora firmato. Questo è molto interessante. Sto scherzando, sto scherzando. Speriamo che la firmino presto. No, no, anche perché lui ha più titolo di me. Io in maniera molto umile vi dico che non appartengo assolutamente a nessuna categoria di banchiere, sono un piccolo artigiano che opero nel settore del credito, grazie al mio inserimento nel gruppo Cassa di Risparmio nel 1995. La domanda che lei rivolge è assolutamente pertinente e contestuale a quello che è una situazione particolarmente vischiosa, difficile nella nostra economia, che permea a tutti i settori, quindi con grande impatto in quello che sono le dinamiche degli attivi delle banche. Le dico, tanto per fugare quello che è una diceria solitamente invalsa alla nostra realtà, è che la banca di Imola e il gruppo Cassa di Risparmio eroga credito. Eroga credito a coloro che sono meritevoli di poter avere attività e relazioni con il nostro istituto, in prevalenza quello che sono il nostro cosiddetto target di riferimento, che risultano essere le famiglie e le piccole e medie imprese o comunque tutti gli operatori economici che si sono distinti nella quotidianità nel cercare di portare avanti quello che è la loro vocazione nel realizzare un servizio, un prodotto che sia in uso alla comunità. La banca di Imola nel corso del 2013 ha un rapporto accordato e raccolta che si attiene mediamente attorno al 87%. Questo significa che a fronte di 100 euro di raccolta di questo territorio, banca di Imola impiega su questo territorio 87 euro. Quindi è un valore che noi vorremmo in ogni caso provare in qualche misura nella ricerca, in tutti quelli che sono i competitor e anche gli operatori di settore, avere ulteriore incremento perché le banche si sostengono non soltanto da raccolta ma nella capacità di fare impieghi sani e di poter avere i rimborsi concordati. Quindi la liceria che le banche possano sopravvivere solo con i servizi piuttosto che con speculazioni in ambito di valori immobiliari non fa parte di quello che è la storia ma neanche quello che sarà il futuro di banca di Imola. Questo vuol dire però che quando avete bisogno di poter impiegare opportunamente una parte della raccolta è una parte del vostro tipo di impiego, ma probabilmente andate a cercare i soldi anche in altre banche o in altre operazioni finanziarie. Le posso rispondere serenamente che questo non accade dal mio ingresso in banca di Imola? Se è accaduto per il passato non glielo so dire, è nella condizione attuale. Voi lavorate con i vostri soldi? Nella gestione attuale, ovvero da quello che è il marzo del 2012 noi operiamo assolutamente nella continuità di gestione della raccolta che abbiamo dalla nostra clientela parlo di famiglie, prevalenza, imprese e altri enti. Bene, io vorrei subito, perché il tempo è poco invece voglio che risponda e senta questi contributi, questi servizi che ho raccolto io, ho fatto un'intervista, sono andati in questi studi. Intanto vediamo subito, così il direttore capisce di chi parliamo, presentiamo lo studio Bassi lo Zuppone e così capisce di cosa parliamo e poi andiamo avanti e sentiamo che cosa ci risponde poi il direttore. Cominciamo con il primo contributo. Intervista sorpresa. Studio lo Zuppone Bassi, accanto a me c'è l'avvocato Bassi. Cominciamo con lei intanto per spiegare perché siamo venuti qui, perché è uno studio che è in qualche modo specializzato su finanze, banchieri, banche e quant'altro. Ecco, ci fa una mini storia, avvocato? Dunque, noi ci occupiamo del diritto civile da sempre e da quando è successo il default a Argentina, circa negli anni 2001, ci siamo occupati di quello che era la situazione del risparmio rastrellato in tutta Italia. Situazione drammatica. Esatto, quindi prima avevamo dieci ricorrenti, dieci clienti ricorrenti e abbiamo fatto una causa contro il debitore principale, Repubblica Argentina. Poi successivamente abbiamo iniziato a fare le cause contro le banche. E da qui è partita, insomma, la possiamo chiamare, definire specializzazione? Sì, nel momento in cui abbiamo fatto il ricorso contro la Repubblica Argentina, siamo stati gli unici in tutto il mondo a ottenere un ricorso, un sequestro conservativo contro uno Stato, abbiamo comunque iniziato a fare anche convegno in tutta Italia per dare informazione su che cosa stava succedendo. E che tipo di operazione e di azione veniva fatta? Veniva fatta, esatto. È stata un'azione collettiva in quel momento. Successivamente, invece, abbiamo iniziato a fare le cause contro le singole banche per la responsabilità che avevano per aver collocato i bond che dovevano rimanere agli investitori istituzionali e non dovevano essere distribuiti agli risparmiatori. Ha avuto questa vittoria, molte cause, eccetera. Voi avete a che fare, la domanda è semplice e anche la risposta le chiedo che sia breve perché così può sentire, dopo entriamo nel vivo, perché ci porterà degli esempi di cause con delle banche, anche esempi molto forti di banche che hanno fatto, secondo loro, ma anche secondo gli esiti, poi le sentenze, delle cose illegali, insomma, ecco, questo... Vorrei che lei rispondesse come è il comportamento... Cose non legali non ne facciamo. Non ne facciamo, ma questo ero sicurissimo. No, però vorrei che lei ci desse una casistica di questi studi. Ecco, voi avete a che fare le banche ogni tanto? C'è qualche cliente che oggi abbiamo definito la banca delle fortezze, era difficile entrare, il cliente restava sempre un po' lontano, un po' impaurito. E' tramontato da... E' tramontato, ecco, ma questo è importante, sono questi dati che ci interessano. E' tramontato, perché? Perché, direttore, c'è una maggiore... Ma perché non ha ragione di esistere, è una questione anacronistica, la banca deve essere al servizio del cliente, non può essere una moda in sé stante. Quindi sicuramente questo processo è già stato attuato e sta ulteriormente sviluppando. Purtroppo che questi processi a volte hanno anche delle degenerazioni, dove quello che prima era visto come grande rispetto per il soggetto oscuro, adesso diventa qualcosa che si può utilizzare alla propria bisogna nei momenti, nelle modalità decise intimamente. Non è così. E' un'organizzazione, la banca, piccolo o grande che sia, il nostro gruppo è un piccolo gruppo, ma risulta essere il primo, lo cita il Lombard recentemente nel mese di settembre, a livello di solidità e a livello italiano. In Italia ha oltre 500 banche. Noi siamo al pari di altri operatori, sicuramente economici, del credito e non solo, che cercano di sostenere coloro che sono quelli che per noi rappresentano la clientela, ma anche il fatturo della banca. Quindi pertanto abbiamo a che fare sicuramente con tutte le fenomenologie che un territorio presuppone. E visto che siamo radicati da oltre un secolo da queste parti, non siamo immune a quasi nulla, pur avendo fatto selezione, pur avendo grandissima attenzione per il rispetto che portiamo alla clientela. Ecco, infatti le stavo per fare la domanda, che non è poi una domanda, è un'affermazione, cioè c'è una maggiore maturità intanto nella clientela, ma c'è soprattutto un cambiamento di direzione all'interno delle banche, anche magari banche piccole, banche locali, eccetera, eccetera. Cioè nel personale è più preparato, è meno distaccato, come dire, c'è immagino questa... La banca di Ima ha come vocazione propria la prossimità al cliente, che non è soltanto palesata da un incontro fra persone pensanti, è attuata costantemente nella raccolta e nell'ascolto e nella metterci insieme in un progetto che possa trovare reciproca soddisfazione. Se la soddisfazione è univoca, credo che non ci sia futuro. Non voglio approfittare, ma volevo chiedere, sofferenze e impieghi, voi nel 2013 come chiuderete? Ma per chiudere il 2013 bisogna arrivare quantomeno a 31-12. Se facessi il profeta... Però la previsione ce l'ha. La previsione, perché il forecast ne facciamo costantemente, le dico, in questa fase siamo attestati attorno a un 12,70, ma questo 12,70 è rappresentato da una situazione a livello nazionale che vede i deteriorati oltre al 17,50, come media anche regionale. Comunque è una media altissima rispetto al passato. Noi viviamo un momento che non ha uguali. Lei citava, mi pare, in un altro intervento, quello che è una situazione concretizzata nella crisi degli anni 20, che poi è stata prorogata come come particolare nel 1933, dove ci fu il più alto tasso di esoccupazione negli Stati Uniti d'America. Lei, io le dico, noi siamo di fronte a una situazione di crisi strutturale, non perché lo dico io, ma perché è attestato da degli elementi che sono mutevoli e sicuramente hanno necessità di un approccio completamente diverso da quello che sicuramente la storia già insegna, ma che di nostro e improprio dobbiamo fare. Io chiederei alla regia se mi può mandare il secondo, non il terzo contributo, cioè quello dove vengono portati dall'Avvocato Lo Zuppone gli esempi, diciamo, di irregolarità o presunte tali da parte delle banche. Se è possibile vedere il secondo e non il primo, se no è lo stesso, partiamo col primo, così il direttore sente direttamente quello che è successo. La casistica è vastissima, nel senso che noi ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Abbiamo visto il vecchietto che vince la causa, però viene truffato in un secondo momento, e questo ancora nell'emore del deposito della sentenza, questo è, c'è anche successo questo, questo vecchiettino attendeva la sentenza da un tribunale locale. Nell'emore del deposito di questa sentenza, siamo intorno a luglio, viene chiamato da questo istituto di credito e gli viene fatta firmare una transazione con la quale lo stesso, al di là di quello che sarebbe mai potuto essere l'esito della causa, avrebbe rinunciato ad avvalersi del dispositivo stesso a fronte del pagamento delle spese sostenute fino ad allora. L'epilogo è stato che la sentenza in settembre, quindi un mese dopo, due mesi dopo, viene depositata e nel dispositivo di quella sentenza la banca viene condannata a pagare 180.000 euro a fronte di spese liquidate, pur di tener buono questo signore, di 10.000, 10.000, 12.000 euro. Questo è uno dei più eclatanti, ma ce ne sono poi tanti altri. Se vogliamo scendere nel tecnico, per esempio, a noi è successo che diversi istituti di credito commettono molte irregolarità, anche di natura formale, nel senso che noi quando andiamo a fare quella che io chiamavo radiografia del fascicolo per capire se la causa è fattibile oppure no, ci si rende conto, sin da subito, ad esempio, che vi sono dei fogli riempiti in bianco, cioè delle dichiarazioni attribuite all'assistito, al cliente, al risparmiatore, che in realtà non corrispondono alla realtà, perché in realtà quel foglio non è mai stato compilato come doveva essere, ma soprattutto non ha valenza storica, perché, mi spiego meglio, viene presentato al cliente un foglio in bianco, in bianco, gli viene chiesta la firma, è una cambiana in bianco, e poi viene riempito in un secondo momento. Abbiamo scoperto, ad esempio, che molta contrattualistica, che secondo le leggi finanziarie, secondo il TUF, secondo i regolamenti CONSO, secondo il TUV, vanno compilate in un certo modo, non solo, ma devono anche rispecchiare e rispettare quelli che sono gli elementi normativi che consentono di identificare quel contratto come un contratto di negoziazione, titoli o altro. Noi ci è capitato tante volte che questi contratti, ad esempio, o avessero firme apocrife, altri casi eclatanti, sì, false, palesemente false, che poi ovviamente vengono, nella istruttoria della causa, vengono sviscerate, e si arriva, si giunge poi alla perizia contabile che accerta che la firma non è del cliente. E questo cosa fa? Fa sì che poi a cascata il rapporto venga annullato, perché ovviamente un negozio, per essere valido, deve incontrare la volontà di entrambe le parti in conto di volontà che ovviamente deve essere formale o originale nello stesso tempo. Dunque, mi apre un quadro molto grave, fra virgolette. Ecco, questo fenomeno è generalizzato, avvocato? Possiamo dire che è generalizzato? Voglio dire, tutte le banche si comportano in questo modo qui? Diciamo che è generalizzato, dottore, nella misura in cui l'esperienza sul campo che io ho fatto nei confronti degli istituti di credito, nel difendere i vari risparmiatori, mi ha insegnato che molti istituti di credito commettono delle violazioni che non sono generalizzate, nel senso che c'è l'istituto di credito che non cura bene l'aspetto formalistico e quindi ci si accorge subito che le firme sono apocrife, che il contratto magari non è firmato da entrambe le parti, ci si rende conto che diverse clausole sono state fatte firmare ad hoc ma sono delle mere clausole vessatorie che nei confronti delle parti in realtà nei confronti del contrariente più debole poi in realtà non hanno nessun valore e questo ce lo insegna ultimamente anche la giurisprudenza della Cassazione con delle sentenze bellissime che spiegano per esempio faccio una digressione molto chiaramente che le dichiarazioni che spesso usano le banche per attaccare il risparmiatore in realtà sono delle dichiarazioni che non hanno nessun valore probatorio sono intimidatorio sono bravissimo sono soltanto di natura intimidatoria quindi generalizzato per me significa che è di casistiche e di problematiche di difetti riscontrati nei rapporti esistenti purtroppo tra banca e risparmiatore ce ne sono tanti direttore abbiamo fatto sentire tutta questa lunga risposta è un mondo quello che viene dipinto dall'avvocato un mondo che esiste chiaro ho anche chiesto se è generalizzato mi sembra che non abbia risposto in realtà penso che non sia generalizzato assolutamente no ecco appunto vorrei una difesa ma non c'è bisogno di difesa io non voglio difendere la categoria ma non c'è assoluto io le posso parlare soltanto di due realtà che conosco molto bene che sono cassa di risparmio di Ravenna e banca di Imola e le posso assicurare che non è nello stile del nostro gruppo operare nei termini indicati dall'illustre legale quello che per noi è fondamentale noi non intimiamo nulla a nessuno noi vogliamo rispettare le regole certamente è che molto spesso il cliente vuol mettere in discussione scelte proprie addossando responsabilità direttamente all'istituto e questo è accaduto e accade e accadrà sempre nella storia perché molto spesso non si tiene conto al di là del singolo profilo di rischio che MIFID e tutti gli organismi di vicinanza inclusi la Consol cerco di in qualche modo cautelare è rappresentato che il rendimento è in base al rischio che uno sostiene lei mi deve spiegare come nessuno poteva permettersi di non conoscere che a fronte di rendimenti tra il 7 e l'8% nel periodo in cui fa riferimento ai bond argentini quando un titolo di Stato italiano viaggiava attorno al 4 quindi voglio dire sta a significare che in qualche misura si è sottovalutato quello che è un elemento fondamentale la capacità di rimborsare il credito questo va per un istituto di credito va per una risparmiatore per un ente sovranazionale o addirittura per uno Stato però direttore fermo restando abbiamo pochi minuti quello che lei dice è fondato resta il fatto che il risparmiatore medio si affida a quello che è il partner finanziario assicurativo e si fida e se nell'emore non è il suo caso personale però qualcuno gli dice guarda che stavolta Cirio è Argentina accidenti puoi rischiare io credo che ben pochi siano le persone provvedute nel conoscere il calcolo vero dell'attività del rischio questo io credo che vada ammesso dal ceto bancario non lo ammetto neanche sotto tortura perché non è reale il rapporto è fiduciario dove un risparmiatore un investitore ha desiderio di ottenere a fronte di un denaro un certo rimborso per i suoi rischi di capitale e quindi lui deve valutare a fronte di quello che si prospetta nella consulenza che viene offerta o nella segnalazione della sua aspettativa quelli che sono varie soluzioni però lei dice questo allora vuol dire che un risparmiatore maturo deve essere anche guardingo molto guardingo no non c'è bisogno che sia un risparmiatore maturo medio o guardingo o assolutamente è un approccio diverso nel senso che quando io voglio fare un investimento dei risparmi della mia vita di quello che è comunque una somma che voglio traslare al futuro e avere un rendimento per questo devo valutare quello che è il novero delle offerte che mi vengono paventate e poi l'investitore che deciderà quale sarà la soluzione adeguata in quello che è il suo profilo di rischio in base alla durata e alla remunerazione prevista ma non è pensabile che a fronte di rendimenti elevati ci siano rischi tenui questo anche un bambino di terza elementare riesce a intuirlo sostanzialmente dice il protagonista principale è lui dice io rischio molto ma perché voglio tenere molto è doppiamente responsabile una nell'azione in cui lui mette in gioco il proprio capitale l'altro e viene a monte nella selezione del suo interlocutore la banca al pari di qualsiasi altra organizzazione è fatta dagli uomini gli uomini devono avere delle regole che sono oltre regolamenti etiche e soprattutto il personale deve essere professionalmente capace non perché io ti do un suggerimento io ti invito a valutare delle proposizioni ma se tu che è in ultima analisi devi decidere quello che è più rispondente al tuo profilo di rischio direttore io stiamo rubando minuti io un secondo proprio le chiedo avevo fatto una domanda vorrei che rispondesse gravita l'attività più economicamente su Bologna o sulla Romagna visto che è la settima sorella Imola è romagnola quando gli interessa vorrei mutare una risposta non perfetta ma quella che ha in animo il mio presidente che spesso e volentieri noi operiamo in tutte le filiali dove abbiamo di riferimento il territorio il cuore rimane in Romagna la storia della Romagna e soprattutto quello che vogliamo invece attuare è avere un'ottica e un approccio a quello che è la rispondenza della clientela in maniera adeguata con uno stile proprio e con i talenti che la nostra organizzazione ha per quanto riguardava la sua domanda di prima in merito alle sofferenze ho inteso nella sua richiesta l'indicazione di quello che sono i criteri errati che vanno esaminati dalle sofferenze agli incari alla sofferenza era una nozione più ampia e ristrutturati quindi quel 12,50 tendenziale è in quella linea a fronte di una situazione di sistema che è nettamente superiore il 17,50 è quello che rilevava in un ultimo report la Banca d'Italia che è il nostro organo di vigilanza e di sorveglianza perfetto direttore la ringrazio ci sarebbe ancora da chiedere molte altre cose ma ci torneremo fino a giugno andiamo avanti quindi se avete voglia non contate grazie per l'eccezione assolutamente l'eccezione dovuta al mio Presidente grazie per il suo intervento grazie Pietro Caruso grazie ai contributi grazie alla regia noi ci vediamo prossimamente su un altro tema anzi altri due temi che andremo ad affrontare la prossima volta grazie ancora e arrivederci grazie buona sera buona sera